Malta, l'isola della blockchain. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo Zago e vi saluto proprio qui, dalla sede maltese di Investire.biz. Sono molto molto importanti le ultime notizie che arrivano direttamente dal Parlamento Maltese. E' proprio così, sono state approvate delle leggi che vanno a favorire e a incentivare comunque la regolamentazione delle criptovalute e lo sviluppo della tecnologia blockchain. Ho dedicato anche un articolo qui sul sito, potete venirlo a leggere, è proprio sulla home page, lo trovate qui. Ebbene, ho descritto un attimo anche le parole del sottosegretario per l'innovazione digitale, Silvio Schembri, subito dopo l'approvazione. Ovviamente dice che è comunque stata una giornata storica per tutti quegli appassionati di blockchain e criptovalute, ma anche professionisti ed imprenditori. Queste norme, come possiamo leggere, sono il primo passo per rendere Malta la giurisdizione d'eccellenza per le imprese del settore della blockchain. E' un fatto molto importante a mio avviso e come ho scritto nell'articolo, ovviamente queste norme porteranno a molte società del settore ad investire proprio qui a Malta. Un esempio su tutti, come ho scritto, è Binance, lo conoscerete molto bene se comunque siete amanti delle criptovalute, perché è l'exchange innanzitutto di criptovalute più grande al mondo e ha già dichiarato, ma ha già preso qualche ufficio qui a Malta, precisamente anche alla Valletta, ma ovviamente devono ancora trasferirsi e non sono ancora operativi. Ma comunque ha dichiarato a gran voce che le sue intenzioni sono quelle di investire proprio nell'isoletta in mezzo al Mediterraneo. Questo perché sempre, secondo il fondatore di Binance, qui a Malta ci sono delle politiche innovative che non si trovano su moltissimi paesi europei. Ecco, altro fattore molto importante è proprio questo che Malta è comunque uno stato membro della comunità europea. Concludo il tutto e poi passiamo magari un attimo allo studio della criptovaluta per eccellenza. Per tutti gli appassionati, dal 31 ottobre al 3 novembre si terrà a Malta il Blockchain Summit 2018. Quest'anno ovviamente sarà molto molto sentito, viste le ultime norme appena approvate dal Parlamento. Precisamente queste norme sono tre, non solo sulla blockchain e le criptovalute, ma anche sui DLT, quindi altre cose un po' più complesse che magari non sto qui a spiegarvi in questo momento e che avremo modo di approfondire magari col tempo. Detto questo però, visto che stiamo parlando comunque di blockchain e di criptovalute, andiamo a riprendere un video che avevo fatto in precedenza, però un attimo vedendolo in maniera diversa. Perché stiamo parlando di un'operazione che qualche tempo fa avevamo fatto proprio sul Bitcoin, la criptovaluta per eccellenza. Ebbene, siamo qui, ora Bitcoin quota 6.340 dollari, nel weekend ha fatto una bella sparata al rialzo, ma possiamo vedere che siamo ancora sulla zona di minimi e io precisamente sto ancora perdendo lievemente. Questa, come detto, è un'operazione di trading, il mio stop è la chiusura dei prezzi al di sotto di questo minimo, in area 5.755, time frame giornaliero, target price invece l'ho posizionato in area 9.500. Detto questo, ripetendolo, è un trade fatto su un'analisi tecnica ma anche di prezzo, ovviamente bisogna fare attenzione perché siamo palesemente in un trend di bassista, quindi è già più rischioso. Detto questo, questi sono tutti i livelli ottimali, a mio avviso, ovviamente questa è solamente la mia idea, per investire anche nel lungo termine proprio sulla criptovaluta per eccellenza. Da Riccardo Zago, investire.biz è tutto, se ci saranno delle novità le condividerò con tutti voi, e quindi io auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.